Produttori, riparatori e adesso anche esecutori, il nostro Davide Pasqualone, Gianni Ceretto. Allora, cosa facciamo a sentire i nostri amici? Ma io direi un brano stile Musette. Ah, Musette, ci mancava. Vals Musette, Vals Musette. Una bella applicazione della fisarmonica. Eh beh sì certo, è stato un po' il genere musicale che ha fatto la fortuna della fisarmonica in Francia. Non solamente suonata da musicisti francesi, eccelsi musicisti, virtuosi, ma anche tanti nomi italiani, perciò figli di emigrati o immigrati italiani che si sono diciamo così prodigati alla fisarmonica, si sono esibiti in Francia e hanno fatto sentire anche quello che siamo capaci a fare, anche noi, con lo stile della musica francese. Bal Musette.